Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasi e benvenuti in questo nuovo video veloce e veloce di domenica Per avvisarvi che ieri, ovvero il 21 dicembre è uscito sulla FTB, ovvero FTB Launcher Il mio modpack, quindi potete trovarlo, potete scaricarlo e giocarlo finalmente Così almeno non direte Ulisse, non riusciamo più a giocare le due modpack Abbiamo problemi, qui là, qui là, insomma con multi MC Quindi, come scaricarlo? Allora dovete aprire un FTB Launcher, dovete scaricare l'ultima versione Quindi la 1.3.2, automaticamente dovrebbe aver fatto l'update Se non l'ha fatto, andate sul sito di FTB, lo scaricate di lì e c'è l'ultima versione Andate su private pack, scrivete Ulissecraft con la 1 maiuscola Ok, in questo modo, e fate add Appena l'avete fatto, scendete giù, quando si chiuderà tutto E vedete che avete la versione C'è la versione 1 per adesso E non c'è ancora il download server Sto un attimo parlando con il responsabile dei modpack per l'FTB Per risolvere questo problema E presto, anzi, uscirà una seconda versione Per risolvere dei problemi che sono Ci sono successi nella Diciamo, produzione della Thermal Expansion Quindi, in futuro vi vedrò altre informazioni Quindi, tranquilli Fatto questo, fate launch Vi dirà di creare un profilo In questo caso, io lo creo E arrivo fra 5 secondi Ok ragazzi, io l'ho fatto Fate launch Aspettate un attimo che si carichi tutto Ora abbiamo anche la nostra console Mi raccomando, tenete sempre aperto la console Perché è un'ottima cosa Ok E, fatto questo Si dovrebbe aprire Quando ci vuole un po' di tempo E aprirà poi Minecraft Quindi ci vediamo appena se lo apre Ok, fatto quello Quindi vedete che si aprirà Tutto quanto E avremo una bellezza di 129 mod Sono ancora poche rispetto All'Aulissecraft che gioco io Ma, specialmente, lo devo ancora aggiornare Come ho già detto Quindi presto avete una versione 1.2 1.1 probabilmente, sì Con tutti i miei ragionamenti Quindi, io vi ringrazio Per avermi supportato in questa Diciamo Avventura verso l'FTB Spero anche di pubblicare il pack Sull'AT Launcher Se riuscirò E quindi Vi saluto per questo episodio E al prossimo video Ciao